Buongiorno a tutti, sono Luca Nias Felimbergo, Regional Manager per l'Italia di Geffen. Siamo qui a Francoforte, al ProLight & Sound, per mostrare un po' delle novità che abbiamo già presentato ad Ise e che non tutti hanno avuto modo di vedere. In questo momento sono vicino ad uno dei prodotti secondo me più interessanti di quest'anno che è lo Switcher MultiView con funzionalità seamless. È una macchina che prende 4 segnali HDMI e Full HD in ingresso e li compone in un'unica schermata in uscita sempre Full HD. Il sistema permette di controllare il layout dello schermo e decidere come portare i 4 segnali creando 4 finestre indipendenti, dimensionandole e posizionandole a piacimento dell'operatore. L'unità ha 15 template predefiniti, possiamo vederne alcuni, sono richiamabili facilmente dai pulsanti frontali oppure posso andare a richiamare qualcuno dei preset creati dall'operatore con la personalizzazione che avviene tramite l'interfaccia web dalla quale gestire l'apparato. La cosa interessante di questo prodotto è che la commutazione viene definita seamless, ovvero senza perdere il segnale. Lo si può vedere facilmente cambiando una delle sorgenti, non c'è il classico sgancio di segnale che troviamo in una matrice tradizionale. L'unità è controllabile non solo dai pulsanti frontali come avete visto, ma anche tramite il web server integrato oppure tramite comandi seriali hotel. Un commento veloce sulla situazione attuale per Geffen, stiamo raccogliendo i buoni risultati di ISE 2014 ad Amsterdam. Il mercato ha accolto con molto interesse le novità che abbiamo presentato a inizio febbraio e il nostro partner commerciale sta ricevendo un discreto numero di richieste, questo ci dà molta soddisfazione. Il 2014 sarà un anno molto importante per Geffen, come sapete Geffen fa parte del Technology Solution Group di Nortec. Nortec in questo momento sta dedicando molte risorse e sta ponendo molta attenzione all'evoluzione di Geffen. Ritorneremo durante quest'anno un po' agli obiettivi delle origini di Geffen, quindi prevalentemente concentrati sulla distribuzione dei segnali video digitali e questo ha portato l'abbandono accolto positivamente dal mercato di alcuni prodotti che erano stati introdotti negli scorsi anni come le soluzioni di controllo e qualche altro apparato. Questo permetterà di concentrarsi, come dicevo, sui prodotti che hanno sempre fatto la storia di Geffen. La roadmap del 2014 presenta interessanti novità che annunceremo nei prossimi mesi. Grazie a tutti.